chiaro che c'è bisogno e bisogno nel senso che ci sono alcuni bisogni di cui c'è bisogno che vengano soddisfatti affinché tu possa avere la tranquillità mentale per comprendere quello che devi comprendere cioè l'esempio classico è sempre quando hai il dente infiammato cioè quando hai il dente infiammato non te lo puoi togliere perché ti fa troppo male quindi vai dal dentista dice c'è un ascesso e c'è questi gazzi via dell'antibiotico quando ti passa quindi quando hai tolto il dolore allora sei nella giusta nel giusto status mentale per scegliere se andare a toglierti quel dente oppure far finta di niente cosa che spesso capita così facevo cioè mal di denti a po antibiotico a posto così non è che ho risolto il problema ci ho messo una pezza ma tra l'altro c'è un dente ma dovrei andare per cui questo il concetto per cui non è che sempre i bisogni sono negativi ci sono alcuni bisogni che è necessario soddisfare chiaro che se te mori di fame e non riesci a mettere un piatto a tavola e non sei il guru che campa di aria è normale che il tuo primo bisogno è mettere il piatto a tavola è chiaro che se invece di chiedere o dammi un minimo di indipendenza finanziaria con i mille due mila euro al mese per campare chiedi 20 miliardi al mese cioè secondo me pure aiutanti dei guai ma che cazzo stai a dire ma anche perché ricordatevi che quando chiedete tanti soldi dovete essere in grado di saperli gestire non vi dimenticate andate a vedere le statistiche di come sono finiti tutti quelli che hanno vinto la lotteria buona parte delle persone che hanno vinto la lotteria grandi cifre li hanno perse tutti in capo a tre anni molti hanno fatto i debiti molti si sono suicidati cioè nella maggior parte dei casi e questa è statistica nel mondo andatevele a cercare nella maggior parte dei casi vincere alla lotteria è stata la peggiore dannazione della maggior parte delle persone cioè è una maledizione vincere alla lotteria e questa è statistica ma non solo vincere la lotteria è una maledizione se andate a vedere quanti di quelli che hanno avuto fama successo e denaro che fine hanno fatto inizia iniziamo quasi a pensare che fare tanti soldi e tanta fama e non saperli gestire cioè averli fatti per bisogno e non per passione è una maledizione perché poi tanti si suicidano muoiono overdose se sfasciano se sfondano e questa è piena la storia di questo è cioè ditemi voi quanti quanti tra quelli che hanno fatto veramente tanta fame e tanto successo sono riusciti arrivare fino alla morte sani tranquilli e beati e si sono goduti quel successo senza avere la mancanza senza resta senza una lira senza restare con la mancanza del successo senza restare un sogliatto o le modelle famose che dopo un po' non si è in culo a più nessuno e purtroppo la loro identità era la bellezza la modella e non sanno più come vanno a erano famosi lì quelle trasmissioni che si sputtanano perché devono pur di apparire in televisione gli fanno fare peggio cose cioè quindi non hanno neanche l'onore di cazzo fanno veramente delle robe ridicole quindi si abbassano pur di avere un briciolo di visibilità quello non è stare bene quello non è stare bene per cui per cui per questo per questo il concetto c'è le cose vi arrivano non solo quando non ne avete più bisogno ma quando le sapete anche gestire cioè se non vi arriva un figlio ma chiedetevi come mai forse ci sarà motivo vi dovreste fare due domande ma si si ma ragazzi allora come si dice chiedere e come era chiedere d'obbligo rispondere cortesia funziona pure qua non è che cioè non pensate che fai una richiesta come come appunto fanno credere con la legge di attrazione ah io adesso faccio la richiesta e ottengo auguri le richieste vanno sempre fatte con una logica se devono soddisfare solo l'ego e se devono soddisfare solo mancanze guardate c'è stata allora io tempo fa ho fatto un esperimento ho fatto una quella che potrebbe essere chiamata una canalizzazione perché va di moda questo tema andava di moda qualche tempo fa e con la nostra aiutante e devo dire che c'è stata una risposta che mi ha colpito che è stata adesso non ricordo esattamente ma al principio era questo dicendo molte richieste vengono soddisfatte non soddisfacendogli la richiesta perché ricordate che la richiesta che vale è quella profonda quella animica non quella dell'ego questa è saggezza estrema cioè non sarei arrivato mai a dare una risposta del genere se non mi fosse arrivata da un altro livello capite questo le richieste vengono sempre soddisfatte le vere richieste vengono sempre soddisfatte quindi se fate una richiesta con l'ego la vostra vera richiesta viene soddisfatta non soddisfacendo l'ego e questo è il bello quando coglierete questa sfumatura che non è una sfumatura ma è la base allora diventerà tutto più facile grazie grazie